L'importanza di questo evento che vede musica di eccellenza il Duomo e un santo, Papa, che è stato arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini? Ho fatto il pieno, come lo dice lei. Comunque, scala, metto scala per doveri di ospitalità e Duomo sono nella storia di Milano, non solo quella culturale, direi punti di riferimento e non solo per Milano, per la nostra nazione, per il nostro paese. Quindi è una cosa molto importante. In più ci mettiamo un Papa Santo, una messa scritta dal papà di Riccardo Sciai, che è oggi uno dei grandi direttori d'orchestra a livello mondiale. Quindi noi siamo veramente molto orgogliosi di ospitare tutto questo. Abbiamo anche messo insieme un bel panel di sponsor, la Ubi Banca, la Cattolica e anche Cairo Communication. Per cui la Milano vorrei dire migliore che si presenta a questo evento. Grazie.